Benvenuti ragazzi a questo nuovo video di League of Legends Lo passiamo un pochino Io vi dico che lo porto e voi non mi credete Io le promesse le mantengo Mo entriamo a fare una partita Ovvio Sono solo io italiano Perfetto 10 su 10 Allora Che potrei usare? Non mi va Cosa succedono? Ecco Il lag mamma mia Entriamo in battaglia Sicuramente sapete tutti come si gioca a League of Legends Però per chi non lo sa Ve lo spiego Tu con il tuo personaggio devi distruggere i cristalli della squadra avversaria E allo stesso tempo combatti contro la squadra avversaria Semplice Quando una delle due squadre distrugge il cristallo madre dell'altra Che sarebbe quello centrale Che sarebbe questo qua Questo qua La partita finisce Ma sicuramente questo lo sapevate Ok Muori Bravo compagno dammi una mano Allora Devo urrare E se ci vai dentro sei un cretino Forza Peccatemi tutta la mia serie di frecce Distruggete quel cristallo Cavolo Con tutto E' spavolato E' spavolato E' spavolato di super boss Vado che male No veramente troppo forte Oh mi sono sbloccato Mi sono sbloccato l'ultima abilità Perfetto Vai che distruggiamo il cristallo Aia Morite Vai che è morto No niente Non riesco a ucciderlo Cristallo distrutto Perfetto Perfetto Anche no Anche no Aia Che cosa Ok Non ho capito niente Questa vera Questa vera è una dura battaglia Ma Allora Allora Chi sta vincendo Noi Con la terza abilità Divento invisibile E divento anche più veloce No No Ma che cavolo Aiuto 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 mio compagno Scemo Forza Uccidilo Perfetto L'ho ucciso io Wow Wow Non mi ero accorto Che il cristallo Avevo poco avvito Muori Perché adesso Vi faccio Molto Più danno Vai che Abbiamo distrutto Anche questo Manca solo Questo E Potremmo Distruggere Il cristallo Madre Compagno Vieni anche tu Ma cosa cavolo fa Attaccate Sto cavolo Di cristallo Perfetto Bravo E sono morto Sono morto No 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 Sono vivo Mamma mia Divento invisibile Non tanto Ho fatto una doppia kill Che cavolo Che cavolo è quello Ci dovete morire Non avete capito Ma perché sono diventato un gatto E sono morto Sono diventato un gatto E sono morto Chi lo capisce Chi lo capisce Lì questo Legends Cioè Non devo fare Non devo fare attenzione Perché questo cristallo Ha poca vita Forza Forza Divento più veloce E anche invisibile Però per poco tempo Ci sono due nemici davanti a me Ma che stiamo scherzando Tre nemici Quali due Magari forse Io divento un gatto Ma perché divento un gatto Ma anche quello è morto Vai Distruggiamo Sto cavolo di cristallo Vai Vai No cavolo Sono morto Quasi Sì abbiamo vinto Sì Sì Ce l'abbiamo fatta Perfetto Perfetto No Non sono stato L'MVP No Forza Allora Io farei Un'altra Partita Ecco Perfetto Ok Ovviamente Nessun altro È italiano Spazio Ma perché Questo non mette pronto Pronto 9 su 10 Metti pronto Sta un Ecco Finalmente Secondo me Gioca un bot Io voglio giocare con lui Perché già ho giocato E l'ho visto potentissimo Però Vorrei provare altri personaggi Questa è la sfera No dai Gioco con lui Perfetto 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 Ok Perché nella mia squadra C'è un minotauro Vabbè Sono i personaggi Strani Di League of Legends Forza Forza Dai Ma tu che bello il minotauro Secondo me Secondo me il minotauro Fa un sacco di male Ma di quel male Mamma mia E secondo me Ha anche un sacco di vita Perché Come tutti i personaggi Grandi Di qualunque gioco Dovrebbero essere Dei tank Beh Resista ai colpi E tira sto pallone Che abbiamo già distrutto Un cristallo qua Continua 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 Perfetto Cristallo rotto Cristallo rotto Vai Vai Cavolo Ma io quello ce l'avevo Quel personaggio Credo che l'avevano Allevato Perché era Troppo forte Troppo bello Forza Forza Andate a distruggere Cristallo No Morite Maledetti Vi tiro a calci In faccia Mi tiro a calci in faccia Non la volevo Non la volevo Si è offesa Ok Che vuole fare questo Aia Che male Vai 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 Minotauro Vai avanti tu Che sei forte Io sono Basso di vita Mi devo curare Cristallo distrutto Cristallo distrutto Sfere Che poi sarebbe un personaggio Ma io non so che personaggio potrebbe essere una sfera Ma sto prendendo danno da che cosa Fammi mettere il cerchio di cura Mamma mia Aia It's a disaster Ok Cavolo Non va bene Non va bene Oh sta arrivando Minotauro Vado pure Ok Ok Mori Cristiano Ronaldo Questa partita è un po' più Dura Sì Cavolo Forza Veloce Mancano sei minuti Mori levatevi da mezzo lo distrugge un cristallo ma tu fai male aia cavolo sono gravemente ferito e sono morto vai forza stiamo perdendo dai non possiamo perdere dobbiamo distruggere quel cavolo di cristallo basta mandarmi i messaggi no no non ci provare così viene attaccato da un mostro non possiamo perdere forza ce la potete fare grande grande minotauro aspettate che adesso arrivo anch'io aspettatemi ciao zio stavo un cadavere là e io ci ho passato su permesso fate passare perfetto dai glielo butto giù sto cristallo no dai attaccare il cristallo ma come ero fuori dal raggio guardate quanta vita ha sto cavolo di cristallo fammi risponare dove sono i miei amici allora sono tutti qua si io non posso fare un attacco da solo quest'altro è qua ok farò un attacco da solo e batta no 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 cosa vuoi fare tu ma cosa devo andare a testare oh guardate il mio compagno ma cosa fai attacca sto cristallo vai bravo distruggilo continua così vado potentissimo ok allora rimangono solo due cristalli lo mi ha distruggere madre e a bello vado noi piccole unite curati perfetto miei compagni aiutatemi ci dovete morire malo andiamo a distruggere il cristallo perfetto perfetto distruggiamo sto cavolo di cristallo sì abbiamo vinto spero che il video vi sia piaciuto lasciate un vi piace e iscrivetevi al canale il e iscrivetevi a fare